allora cos'è che ti imbarazza maggiormente Maurizio posto che ci sia qualcosa nel rapporto con le donne no guarda da un punto salute Maurizio grazie da un punto di vista di salute Maurizio grazie direi proprio no il problema imbarazzante può essere se c'hai una giustificata ansia da prestazione ah beh certo può essere giustificato se lei tu supponi ti ha tradito è soltre salute Maurizio è che mi è preso un attacco allergico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti